Vigilia di Scandicci-Arezzo Vigilia di Scandicci-Arezzo Voglio ripartire dalle tue vigili precedenti Qua in Amarato Ti ricordi le ore precedenti di Città di Castello-Arezzo Quello che fu poi il tuo debutto qua con l'Arezzo? Sì, quella partita è stata a vela Con un po' di tensione Però alla fine abbiamo vinto 4 a 0 Speriamo di domani fare un bel risultato E partire con il piede destro Prendesti il rigore E facesti anche il gol Sì, è vero domani partire Soprattutto con una vittoria Dopo si viene il gol fuori è meglio ancora Stiamo con l'aspettativa E invece l'anno scorso di Piero Antonio Che cosa ti è rimasto in testa? Una sconfitta per 2 a 1 all'ultimo minuto? Ci abbiamo partito Un po' difficile L'anno scorso Speriamo di non fare Proprio quel desempegno Che differenze noti rispetto a questi due anni che abbiamo citato Adesso in questa stagione In cui l'Arezzo si presenta al Via Con l'obiettivo dichiarato di vincere il campionato No, no, si è lavorato tanto Più di 40 giorni Con un'aria serena Quindi tutti vogliamo vincere domani Partire bene per cercare di vincere il campionato C'è grande concorrenza Lai in attacco Mi dici come ti trovi Tra l'altro siete tutti stranieri Anche se qualcuno ormai È un italiano d'adozione Come te per esempio Insomma la concorrenza è Molta e qualificata Come ti stai trovando? No, no, bene Sono tutti Fortissimo giocatore Ma bravi ragazzi Tutti se parlano in spagnolo Quindi tutti va tutto No, no, è bene Proprio sono un bel gruppo Tutto Come ti stai trovando in questo ruolo Un po' più defilato sulla fascia In cui ti ha utilizzato il mister Nelle ultime partite? No, bene, bene Può darsi che A volte sembra Che uno sta più lontano Della porta Però dopo Come diceva prima il mister Mi lascia libero Quando abbiamo pala noi Quindi bene Penso di Arrivare in porta Tranquillamente Ti chiedo un'ultima cosa Hai messo anche la fascia da capitano In queste partite Mi dici che sensazioni hai A livello personale Per questa stagione Che sta cominciando No, bene È stata una Una cosa bellissima Veramente non me l'aspettava E mi ha dato tanto piacere Speriamo di De poter metterla Qualche volta in più E sempre vincere Mister Mezzanotti Comincia il campionato a Scandicci Allora, manca Mencarelli Manca Rubechini Carminucci e Diemè Ancora sono nel limbo Ma soprattutto la notizia Che ci sia un problema al ginocchio Ti chiedo Se tutte queste assenze Ti preoccupano E nel caso Come ovvierai A queste mancanze Preoccuparmi no Onestamente Perché abbiamo sempre detto Che noi abbiamo una squadra equilibrata Abbiamo 24 giocatori E adesso Se fossi preoccupato Vorrebbe dire che fino adesso Avrei mentito E quindi non è vero E su sì È un problemino Niente di particolare Dobbiamo solo valutare Domattina con calma Ma se è il caso Di farlo partire all'inizio O farlo entrare A partire in corso Tutto qua Perché è stato informatore Quindi niente di particolare Ma valuteremo bene Le omane Comunque Se sono pronti subito Altre attaccati Capiamo E Diemè e Carminucci Spero di traslarli Più presto Ma soprattutto anche per loro Perché hanno fatto Una preparazione stupenda Hanno lavorato molto E quindi hanno voglia di entrare Di rendersi il mostro Perché stare fuori Non è bello Sono dispiaciuto molto Quello è un po' preoccupato anche Per Bencarelli E due chili Perché mi dispiace Dopo aver fatto Un mese di lavoro Forzennato Dove Come antipasto C'era da correre Come primo C'era da andare in panestra Adesso che c'era Da prendere il dolce Giocare Divertirsi E sono fuori Con le stambelle Questo mi dispiace veramente molto Perché sono ragazzi straordinari Noi la squadra Io dico sempre Noi giochiamo gli undici Quando gli undici Che vanno in campo Sono tutti Per me Sono tutti all'altezza All'altezza dell'Averso Il posto di giocare di dolare Quindi non manca nessuno Lo scandici ha tre giocatori squalificati Brachi è un allenatore Molto esperto Ha detto che se la giocherà A viso aperto Ti chiedo se ci credi E che avversario Ti aspetti di incontrare domani Sicuramente è un'altezza Perché è una squadra di categoria Una squadra che ha due attaccanti importanti Secondo me Ha un ottimo centrocampista centrale È una squadra tosta Poi Brachi Io l'ho detto anche prima Secondo me è un ottimo allenatore Un allenatore che tira fuori il massimo Con i giocatori È anche sanguigno Come piacciono a me Quelli che ci guardano negli occhi E non lo so Ti dico in realtà Se giocherà a viso aperto O se si difenderà Credo che Dovrebbe essere anche Merito Colpa nostra Di come gioca lo scandici Questo penso sia importante Voglio pensare ad Arezzo Voglio pensare a noi Quello che dobbiamo fare Se noi saremo bravi E ricostringeremo a abbassarsi Se abbasseranno Se non saremo bravi Sarà a viso aperto Ognuno prepara la partita A modo suo Non è bello che sia Per questo caso Siamo tutti uguali Io devo pensare ai nostri Penso che siamo pronti Siamo pronti Perché la squadra Ha visto negli occhi Che ha voglia Che ha fame E L'unica cosa che dobbiamo fare È rispettare lo scandici Come è giusto che sia Perché questo campionato È un campionato difficile Difficile Ripeto L'anno scorso Questo girone Al novantese Non si sapeva Né chi andava Né chi Aveva vinto Il campionato Al novantaquattresimo È arrivato Da Ponte Vecchio E ha vinto il campionato Il Castellicone Cosa fuori di logica Quindi Dovremmo ogni partita Farla al massimo Dei nostri mezzi Grazie.